Al FAMART, concorso internazionale d'arte che si sta attualmente svolgendo a Cadi Cararesi, a Treviso, abbiamo anche la fotografia digitale e ce la propone l'artista Gianni De Simone. Quindi una fotografia che ha subito un'ulteriore elaborazione, che dimostra la capacità sapienziale ed esecutiva di questo artista. Ma c'è di più. L'artista gioca con la natura, gioca con la rappresentazione dei gemelli, quindi del doppio, quindi della dicotomia. Quindi sembra quasi che l'uomo, l'essere umano, debba scegliere una strada posto dinnanzi ad un bivio. In questo caso si potrebbe dire posto dinnanzi ad un bivio nella conservazione della natura o della distruzione di questa. Perciò l'opera di De Simone è una metafora, una metafora che ripesca una rappresentazione comune, appunto i gemelli, che è conosciuta da tutti, ma che nasconde un significato altro. Il tema del dubbio, quale scelta dovremmo fare. E quindi è un messaggio, un messaggio che l'artista ci vuole proporre. Ci invita a fare la scelta più oculata dinnanzi ad un dubbio. Chiaramente la scelta più oculata sicuramente potrà portare più serenità e felicità. Grazie.